Questo programma è offerto da... Uè! Luca, ma lo vai a dire a tuo padre! Ho troppe donne! Ma pensa se fossi stato bello! Nico Camminati! Che giorno è ragazzi? Mercoledì! Mi sono perso! No, perché ieri sera ero in un bar di trance, poi mi hanno fatto bere un liquido strano, e stamattina mi sono svegliato in piazza del Duomo a Milano completamente nudo. E le trecce al posto della coda, con in mano una chiavetta USB. Ora sono rientrato nel mio monolocale, e voglio proprio vedere cosa c'è in questa chiavetta. Vediamo! Faccio play. Sì, dai, così, fatemi male. Dai, dà di più, sono la vostra... Ehm, che ne dite di procedere con la presigla? Milano, Radio 105. Tutto lo zoo è pronto a trasmettere come sempre per le prossime due ore. Al mixer, Pippo è pronto. Anche Luca Alba è al mixer. Uè, Luca Alba lo vai a dire a tuo padre! Sì, ma appoggiato. DJ Spine l'ho visto andare in bagno. Sì. E Marco Dona sta mostrando nei corridoi il meglio dei suoi video hard che ha nel telefono. Wender, invece, sta cercando dei vecchi nuovi da torturare. Dei vecchi nuovi, sì. E delle vecchiacce da ciucciare. Fabio Alisei, come sempre, è vestito come sempre uguale. Sì. Ma oggi però indossa le calze di sua moglie. È vero! Ma come cazzo fai? Ferma la musica, Wender. È vero! Paolo Noiz, quanto sei buono! Oh no! Tu hai un fascino che nessuno ha. Sei proprio di maschio, porcoso. Sì, sì. Ah, come ti farei. Grazie, Pedro. Non voglio... Non cedere mai. E poi lui, il timoniare di questi balordi, il capo indiscusso dello zoo di 105, il mister mega cool androide, Marco Mazzone. Da grande sale crocio. Oh 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 oh. Da grande sale crocio. Oh oh oh. Oh 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 oh. Sono già grande. Che hai giù di bagnato. Oh oh oh. Grande, Marco. Grazie. Mi raccomando. Oggi voglio la sospensione in diretta. Ok? Va che ci conto. Promesso. Buona diretta a tutti. Grazie, grazie. Mamma mia che calze che c'ha lì sei, ragazzi. Fabio, non puoi mettere le calze di tuo moglie. Ma non si vedono, sono sotto i pantaloni. Ma come le vedo io? Le vede Paolo? Fa schifo. Ma sono sotto i pantaloni. C'è anche il risvoltino. Ma sono io il frocio del gruppo, ma ti rendi cool? Ma io le vesto etero. Questo è lo ZO di 105, il programma più ascoltato in Italia.